1-1 con ritorno ancora aperto alle sorprese. Più manovra e occasioni per il Pontedera di Renzo Olivieri, ma grande disponibilità al sacrificio e alla lotta per il Sant'Egidio di Valentina De Risi, nell'occasione visibilmente penalizzato dall'assenza in cabina di regia di Conni Somma. Per arrivare in finale di Coppa Italia di Serie C alle ragazze dell'Agro occorrerà l'impresa in trasferta. Crederci è fondamentale. La cronaca si capisce fin dalla prima frazione il contenuto di un pomeriggio che tra terra battuta e caldo naturale è da quasi 40 gradi. Pontedera corto, palla a terra, pronto a colpire. Portiere Pascale determinante al quarto d'ora sventando prima su Gavagni poi su Tramonti. Bessaglio sfiorato al diciottesimo da Baldi, traversa, colpita e soprattutto da Carrozzo al ventiduesimo, palo centrato. Nel momento più difficile il Sant'Egidio reagisce. Giulia Olivieri spreca la grande scienza al ventisettesimo, a solo, ma esitazione finale nel concludere a rete. Il capitano però sigla il gol del vantaggio al trentaquantresimo, beffando il portiere ospite Sacchi con pallone goffamente finito sotto le gambe dell'estremo difensore ospite. Prima del gol Priscilla del Prete, migliori in campo, con movenze alla Di Bala, aveva buttato via il vantaggio toscano al trentaquattresimo. Dopo il gol applausi locali per Aprea, al trentanovesimo salva sulla linea di porta su conclusione di Gavagni. Si va a riposo e ad inizio ripresa, Olivieri rinforza l'attacco con Fenili, pochi minuti ed è subito pari. Al quinto, gol di Carrozzo, ritrovatasi da sviluppo di calcio d'angolo, in comoda posizione per fare centro. Segna ancora il Sant'Egidio, ma non vale, giudicate irregolare la posizione di Cuomo. Ancora un angolo studiato bene dal Ponte ed era il ventiseiesimo Fenili svetta, ma non trova la porta. Minuto numero 29, Pascale si esalta sulla conclusione di Maffei. Il copione si ripete anche nella ripresa. Il Sant'Egidio soffre, ma ha di nuovo l'occasione per colpire. Accade al trentaseiesimo. Olivieri va in fuga verso la porta, sfruttando un errore avversario, ma poi non è capace di chiudere alla sua maniera. Nel finale, Toscane ancora pericolose. Brava di nuovo Pascale al quarantunesimo nell'opporsi al tentativo della solità del prete. Grazie.